Il presidente della regione, Vito De Filippo, dà il via libera della giunta alla commissione d'inchiesta sul termo valorizzatore fenice di Melfi e lo ha fatto in consiglio esprimendo parire favorevole alla proposta illustrata dal capogruppo del PDL Pagliuca e su cui si è registrato un consenso unanime. Il fragore che ha determinato questa come altre vicende ci porta come governo a metterci immediatamente in sintonia con la comunità perché non c'è nessuno di noi che è anche in una valutazione diversa. De Filippo ha ricordato lo sforzo lodevole del Dipartimento Ambiente e dell'assessore Mancusi in particolare ribadendo che l'estrema attualità della vicenda del termo valorizzatore fenice porta il governo regionale a porre attenzione mirata sulla vicenda. Una commissione d'inchiesta che dovrà essere supportata da strutture nazionali che proverà di intensificare i controlli per dar conto a tutti gli interessati degli elementi che caratterizzano il termo valorizzatore fenice. Commissione d'inchiesta, governo regionale e strutture nazionali preposte, ha detto De Filippo, lavoreranno in sintonia per garantire la sicurezza. Grazie a tutti.